Via Torino non può essere chiusa perché c'è un investimento pubblico importante, va convertito il servizio, cioè se farà dell'altro. Dobbiamo capire ora qual è la priorità dello spazio e così l'unica cosa certa è che non funziona. A breve potrebbe cambiare tutto, ora che il capo di gabinetto, il nuovo direttore generale e il segretario comunale hanno un nome e un cognome. La nuova amministrazione potrà mettere le mani anche sull'organizzazione degli uffici che tanti malumori aveva causato tra i dipendenti trasferiti in Via Torino e i commercianti del centro storico. Il direttore generale nominato è Gabriele Verza, già direttore dell'ESU di Verona. L'obiettivo personale è di far ritornare degli uffici in Piazza Biade, vediamo se sarà possibile.